Sono stati prontamente soccorsi dai medici delle ambulanze a corso sul luogo dell'incidente e ricoverati al San Bortolo di Vicenza. Due giovani si sono scontrati con le rispettive auto nella notte a Gambugliano. Due 25 anni che percorrevano via Fontana verso l'1.30. I carabinieri che hanno eseguito i rilievi stanno ancora vagliando le cause esatte dello scontro che ha visto l'impatto frontale dei due mezzi. I conducenti sono stati accolti in pronto soccorso con un codice di media gravità. Grazie a tutti.